eccoci amici la spesa la de spar euro sparro che si trova la fortezza di modica ho speso 66 euro e 65 preso la solita vaschetta di carote che si trova in tutti i supermercati preso un 56 cetrioli con un totale di un euro e 44 quelli che ricordo ve li dico altrimenti gli altri i tortiglioni questi sono fatti con la farina di orzo con poco sale e li ho pagati 85 centesimi mezzo chilo poi qui abbiamo la pasta di ceci per mio figlio qua ho preso fuori c'era un ambulante dove ho preso un po di frutta quindi ho preso pomodori patate ecco qui ho preso dei bastoncini cotton fioc io prendo sempre questo tipo di busta poi ho preso il gel bagno con una profumazione buonissima per mio figlio sempre preso i nugget vegetariani valsoia ecco questa è la prima volta che prendo questa maschera a cui ho sentito parecchie recensioni positive e in più è vegan poi ho preso le mie solite gallette di riso queste sono addizionate mais sempre biologiche ne ho presi due pacchi ecco queste io prendo sempre le stesse cose fette biscottate ai 5 cereali e sono porzionate quindi mi fanno comodo per darmi un contegno qua ho preso tre confezioni di yogurt alla mandorla al gusto pistacchio per mio figlio poi gli spinaci a spinaci sorgelati che fanno comodo sempre la sera per cena ecco questo è l'altro formato di spaghetti sempre con farina di orzo sempre 85 centesimi mezzo chilo il succo e polpa il nettare la pera qui il misto di legumi lenticchie lenticchie rosse e fagiolini con l'occhio prodotto locale anzi localissimo perché in pratica è della mia stessa strada l'altro formato di pasta come quelli di tortiglioni a farina d'orzo 85 centesimi qua sempre della stessa azienda che si trova sulla mia strada 99 centesimi il farro ho trovato queste tortine fatte solo con zucchero grezzo per mio figlio al cioccolato speriamo che gli piacciono vede sempre di una ditta siciliana e queste patatine diciamo che anziché essere fritte sono cotte al forno senza grassi e non sono soltanto patate ma anche altre verdure quindi sane non snack sano poi tre polpa di pomodoro a cubetti 49 centesimi lo yogurt greco che stava in offerta 79 centesimi e ne ho presi quattro cinque vari gusti la lenticchie rosse decorticate che solitamente faccio i polpettini a mio figlio una parte un formato di pasta della garofala integrale due finocchi ovviamente non mancheranno mai i noodles tre di queste zuppe di fagioli che abbiamo mangiato oggi e sono fantastiche abbiamo fatto la prova e sono buonissimi a 1 euro e 39 questi siamo un'offerta 2 a 1 euro e 50 sono fagioli secchi borlotti il sedano insalate cose 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 varie tanta frutta kiwi arance banane le noci queste sono locali sempre queste qui le abbiamo già viste qui il sedano rapa e qui la la signora mi ha dato gentilmente gentilmente una bellissima ricetta locale che si fa con il pomodoro e poi fatte ripassate con la pasta ecco qui fuori dalla fortezza c'è in galleria c'era un rivenditore di capsule sempre siciliane ho preso un solo nocciolino è un pacco intero di ginseng ottime le abbiamo già assaggiati dopo pranzo mi fa piacere perché questa è una azienda locale in provincia di palermo quindi ok ragazzi questa è la mia bellissima spesa fatta la despar ho cercato di risparmiare puntando comunque sulla qualità e sul chilometro zero spero che vi sia sempre di spunto ed aiuto a come fare una spesa settimanale puntate soprattutto sui legumi sui cereali in chicco integrali e sulla frutta e la verdura limitando l'uso di di carne rossa magari preferendo il pesce la carne e bianca e le uova con questo video un grosso bacio e alla prossima svuota spesa un bacione ciao